Se volete comprare giochi a bassissimo costo passate nel link in descrizione su istangaming.com Ciao ragazzi e benvenuti in questo dovissimo video Ragazzi oggi siamo in una gara molto particolare che si chiama Sky NASCAR FIB E la foto è buggata giustamente, non c'è Praticamente ragazzi è una gara dove c'è un percorso tutto volante intorno all'FB Ed è tipo una specie di pista da dove fare delle micro gare molto molto belle e carine E con noi c'è Simux Bella a tutti ragazzi E poi ragazzi salutiamo tutti i fan che sono entrati e membri dell'Agriuli Salutiamo tutti, grazie mille che mi seguite ogni giorno e che partecipate alle mie gare Perché mi serve il più gente possibile Ragazzi superiamo i 100 like, lasciate un commento, condividete il video Passate anche dal contest che stiamo facendo Dove potete vincere 3 conti moddati Condividete questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo dentro la partita ragazzi Ok ragazzi si parte, abbiamo preso la Inti DXF Sta esplodendo il macello C'è stata la focalisse al solito Ragazzi è un percorso tutto intorno E si scivola molto Quindi mi ho fatto attenzione Io l'avevo fatta con la neve questa per provarla E si parte, vai Simux, mi raccomando Ora se ne avranno tutte addosso Perché Grazie E' tenuta Meno male che quella là mi ha spinto Mi stava facendo sbandare Poi per fortuna Guardali come spingono Bastardi Si gira Primo Porca miseria si gira Vai 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 Perfetto Simux si sei? Che cazzo Rola? Oddio Rola sono andato a sbandare questa che cosa Minchia Porca miseria Che grazie Dai Mannaggia Dai che ce la fai Ah questa qua con la neve Era impossibile Perché Era tutto innevato La pista qua E si scivolava di brutto Abbiamo doppiato qualcuno Guardali Direzione sbagliata Cazzo dici direzione sbagliata Che si buga Dai Non ci credo Non ce l'ha fatta la macchina Non ci credo Sì ma Vi devo gli altri ancora lì Quindi Sono secondo posto E sto doppiando gente Quindi Dai raga Dai Dai che ce la facciamo Ragazzi è tipo una pista La go kart maniera Se vedete Molto figa Bella Però comunque Bella Bella Si fa la rampa Ci dobbiamo girare Oddio La gente che se ne viene sopra di me Ma che cacchio è Veramente Che Cristo è Dai Non so come ho fatto a sbandare Ma ho ottenuto la macchina Dai ragazzi Lo stiamo rifacendo per la terza volta Tipo E non so dove cacchio è andato a finire Quello che sta a primo posto Perché sta lontanissimo Tipo Non esiste più Dai 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 che ci giriamo Ha concluso Ah Geoffrey Geoffrey ha fatto a primo posto Giffrey Perché sono terzo Ah perché dice Direzione sbagliata Ma non è possibile Stavo concludendo Se ne è venuto uno addosso No vabbè Che sfiga No ragazzi Una sfiga Simux Faccio la rampa Sai che si intreccia no Quello dell'altra rampa Se ne viene addosso Boom Mi fa volare all'aria No no Che casino Dovevo fare secondo posto Dovevo fare secondo posto E ho fatto quarto Perché se ne è venuto Alla fine addosso Ragazzi Siamo nella seconda gara Sempre Dello stesso creatore CC010 Si chiama Sky Stunters Si è all'aeroporto E c'è praticamente Un piccolo loop In aria Con tutta la rampa enorme Eccetera eccetera Perché sono comunque Gare molto carine E ragazzi Speriamo che entra Altra gente E ci vediamo Dentro la partita Ragazzi Ci siamo Siamo spawnati Dentro la rampa Guardate che casino Sto dentro No vabbè Ma io sto dentro Guarda Ma devo partire Per tardissimo Perché mi ha spawnato Guardate ragazzi Che casino Che casino Guardate Ok Undicesimo Perché Che cazzo è Oddio Non muovo niente Non muovo Ma bellissimo Questa mi è piaciuta Al primo botto E si cade Aspetta qui dopo Che è successo dopo Non lo so Guarda Precipiti Precipiti Eh sto già precipitando Quindi Dritto 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 Stiamo proprio volando Con la calma Più assurda Dai Ok Si parte ragazzi Eccolo qui Eccolo qui C'è uno che si è volato Tipo là No Cos'è sta ruba Che No Che cacchio è Mega war ride Dai Pure io Al primo colpo Dai così Ci giriamo Ci giriamo Perfetto E andiamo male Qua che ci siamo fatti Il mica Scivolone Perfetto Ok ragazzi Ci siamo Ci siamo Mi è piaciuta Qua la cosa iniziale Molto leggera Lì Tranquilla Ok Settimo posto Ma proprio leggerissimo Giusto per spartire il panettone Il panettone Sì infatti Che buono Settimo posto Perché Perché Mi sono spawnato dentro la rampa No Ero dentro Cioè poi vedrai nel video Tutto il bug assurdo Che cosa Di nuovo si fa Si fa di nuovo Dai così Sì sì Dai così Sono secondo posto Incredibile No 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 Non è possibile Che mi scivola L'ho fatta male L'ho fatta malissimo Splode tutto Dai vai Dai non ci credo che Eh vai vai Ora sì Ora sì Non ci credo Sto facendo la gara Sto facendo la gara Il primo colpo Incredibile Ok No sì L'ho presa malissimo La rampa Prima Cioè proprio Si è fermata La macchina è tutta in acqua È scivolata Vai Oddio Cos'è Un'altra rampa Figata Bella questa Molto bella Dai che si vola Dai che si vola La prendiamo bene Dai va bene La prendiamo benissimo Ti mantengo il secondo posto E ci giriamo E mi sa che Concluse il secondo Vai io so quinto Dai 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 Perfetto Bella gara comunque Bella gara Mi piace Molto figa Molto figa Si fa la rampa Olè Perfetto E andiamo Verso il traguardo Ragazzi Che è proprio lì Di fronte a noi Lo dobbiamo prendere A primo colpo Se no mi incazzo Lo prendiamo Ci giriamo E concludiamo indietro Bellissimo E concludiamo la gara indietro Ragazzi Minchia Quindi ragazzi Per questo video è tutto Abbiamo concluso Quinto posto Purtroppo Sono sponato Dentro la rampa Si vedeva proprio Che stavo dentro Col bug assoluto Se no magari Potevo fare una posizione Migliore Ma non è stata colpa mia Adesso Ragazzi Superiamo i 100 like Commentate questo video Lo dovete condividere Assolutamente Iscrivetevi al canale Passate dal contest Che L'ho fatto ieri Partecipate in tantissimi Perché è un contest Della madonna Veramente Si Mux saluta Bella tutta Alla prossima Quindi ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella Noi ci vediamo